Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui con questo nuovo video dove vado a recensire appunto questo pacco che mi è arrivato Mi è stato dato appunto da recensire dall'azienda Klim che ringrazio Che mi ha dato comunque l'opportunità di collaborare con loro Comunque eccoci qua è arrivato il pacco Adesso lo apriamo Ok eccoci qua abbiamo il pacco Si apre tipo Ok ecco qui Usciamo il contenuto Ed ecco qui il nostro bellissimo mouse Aspetta togliamo un attimo la carta Eccolo qua Ragazzi con questo mouse su Fortnite diventerò il pro player Allora intanto cerchiamo di scartare il tutto E vediamo un po' le caratteristiche ecco del mouse Intanto vi faccio vedere subito che appunto ha 7000 dpi gaming sensor Non so se si vede mai Ok 500 Hz E 50 Eh si 50 scusate Vedi G di accelerazione Sg non so cosa sia G 50 Hz 2ms response time Ok Klim aim Quindi RGB black light gaming mouse Che è davvero figo Io l'ho visto raga ed è qualcosa di eccezionale Però ancora non l'ho aperto Lo volevo aprire con voi appunto Ok Scatolo abbiamo aperto Qui ci sono le solite cose Questa cos'è? Una busta? Oh ragazzi abbiamo ricevuto una busta dalla Klim What? Attenzione No Che figata I sampini della Klim Bello bello Madonna ragazzi è un caldo Qui in Sicilia Assurdo Ok Eccoci qua ragazzuoli Il mouse è un po' grandicello Però cercheremo di abituarci Guardate Si apre così Ok Ed ecco qui Mamma mia che figata Io raga Sono proprio curioso di aprirlo Cioè di attaccarlo Ragazzi Wow 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 È fighissimo Anche i tastini laterali C'è davvero Una figata Ragazzi mi raccomando In descrizione Troverete tutti i link Troverete il link Per acquistare questo mouse Che è davvero una figata Assurda Non vedo l'ora di andarlo a provare E appunto Andrete anche a trovare il link Se volete Qualcuno di voi Che comunque sta su YouTube Che ha Più o meno un bel po' di iscritti O quello che è Provi Comunque vi lascio il link Per cercare di collaborare Con questa azienda della Klim Se volete collaborare Vi lascio sempre il link in descrizione E appunto troverete anche il link Del mouse in descrizione Quindi se lo volete acquistare Ragazzi Questa 29,99 Costa 30 euro praticamente E appunto È una figata assurda Io non vedo l'ora di provarlo Ragazzi Perché è veramente bellissimo E chissà Ragazzi Scrivetemi qui sotto Nei commenti Che prodotti Volete vedere voi E così Comunque vediamo Se potrò Appunto Recensirli E farveli vedere Scrivetemi Qualche prodotto della Klim Che volete vedere In un nuovo video Io che dire ragazzi Vi ringrazio Per aver visto Il video Vi ringrazio davvero a tutti È stato breve Ma intenso Sì sì Molto 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 intenso E sono molto felice Di questa collaborazione Con la Klim Ringrazio a tutti voi Per aver visto il video Noi ci vediamo Prossimamente Con nuovi video Oppure chissà Qualche volta Cercherò di fare una live Una volta ogni tanto Un bacione Dal vostro Darkhouse 92 E noi ci vediamo Alla prossima Heeehoo E noi ci vediamo